da un anno e mezzo ci aggiornano continuamente con numeri conteggi percentuali varianti l'argomento però è unico la pandemia secondo te accade solo questo nel frattempo sono successe altre cose innumerevoli fatti e informazioni messe in secondo piano ma sono davvero meno importanti 5 agosto diretta streaming dalle 21 da noi come sempre puoi trovare quello che gli altri non dicono alternativi